Siccome dicono tutti che è una guerra, purtroppo sono stato un tricea e ho trovato i comandanti della mia compagnia che veramente sono dei grossi professionisti. Grazie. Dall'immobilità a causa della Covid al ritorno in sella alla sua amata bicicletta. È una storia di speranza quella di Mauro che oggi ci racconta il suo lento ritorno alla normalità anche grazie alla fisioterapia. L'incubo per Mauro Aretino, 72enne, era iniziato lo scorso dicembre quando in soli 40 minuti la sua vita è cambiata. Prima la positività al Covid, poi l'abbassamento della saturazione e quindi il ricovero in terapia intensiva ed il coma farmacologico per 25 giorni. Assolutamente non mi ricordo niente. La storia l'hanno vissuta i miei familiari. Poi mi sono risvegliato, sono stato nel reparto di malattie infettive e lì mi hanno dato la svolta e il mio cervello era puntato sulla riabilitazione. Il fisioterapista è una figura trasversale e l'importanza è la trasversalità di questa figura che lo accompagna dalla cura alla fase della riabilitazione. Andrea Gionmoni è il fisioterapista che l'ha seguito sia nell'adegenza Covid che in ambulatorio ed ancora oggi continua ad essere il suo punto di riferimento. Abbiamo chiesto quali obiettivi avesse e lui ci ha sempre detto che voleva tornare quello di prima, a fare la sua vita autonoma, l'ha spinto l'amore per la famiglia e anche le sue passioni. La riabilitazione per Mauro continua ma intanto la vita finalmente è ripresa. Che dà la spinta a intraprendere un percorso di riabilitazione? I progetti che avevo fatto, tornare a casa, vedere i miei nipoti, i miei familiari, la seconda verrà da ridere, andare al bagno da solo.